ho fatto cagare adosso sempre che roba! che roba! hai visto Karate Siro? si ho visto non riesco a spazzarlo con il tiro niente con la X niente Karate Kid che lavoro lo voglio vedere Karate Siro è il primo colpo di Ibrahimović che vedo non riesco più si si vede è l'agogna ecco qua anche da Karate Kid